Ah, il regno della roccia! È tutto così tranquillo qui! Ehi! La bussola sembra impazzita. È come se ci fosse un frammento qui, ma... Attenzione! E questo sarebbe tranquillo! Correte! Un Darkhan mi sta attaccando! Dormiti! Potenza degli elementi! Forza della roccia! Combatti, Thorak! Roccia, è ora di andare! Thorak è qui! Ehi! Sta' attento, bestioni! Thorak è grande e forte! Grazie, Thorak! Sapevo che l'avresti salvata! Ma che ore sono? Andiamo in missione! Ora che abbiamo la bussola, possiamo cercare i frammenti dell'Elestar dispersi e salvare anche i Gorm dai Darkhan! Cosa? Adesso? Ma non possiamo ora! Ci servono abiti da viaggio, cibo, acqua e... Cibo! C'è cibo a sufficienza? Quanto possiamo allontanarci? Naoki, non posso concentrarmi sugli attacchi di Koga se devo schivare quelli dei soldati! Trek, tieni la bussola! Devo proteggere Reef! Oh, no, no, no! Ragazzi, quel soldato ha preso... Ragazzi! Torna subito qui! Soldato! Forse avrei dovuto aspettare gli altri! Oh? Preso! Ops! Oh, no! Grandioso! Ho davvero rovinato tutto stavolta! Ma sono sicuro che i miei amici verranno a cercarmi! Non mi prendi! Non mi prendi! Torre, aumenta la difficoltà, per favore! Non riesco più a concentrarmi! Sono esausto! E ho anche fame! Torre, interrompi l'addestramento! Concordo, guardiano! Se non ti senti in forma, lo stesso vale per me! Gran bell'allenamento! Ci vediamo! Ops! Dormiti raggiungibili! Chi mi fermerà? Dormiti raggiungibili! Dormiti! Dormiti raggiungibili! Dormiti raggiungibili!